buongiorno a tutti siamo qui nella hall del primo piano l'ingresso del comune di foggia siamo in attesa di capire quali saranno le sorti dell'amministrazione comunale di foggia anche perché franco landella potrebbe rassegnare le dimissioni così almeno è stato annunciato il tutto è partito questa mattina con le dimissioni del consigliere consalvo di pasqua della lega e la possibilità che si dimettessero anche altri otto consiglieri di maggioranza a cui ovviamente vanno ad aggiungersi coloro che sono stati indagati quindi a carrino capotosto e le dimissioni di ermina roberto ma anche la l'affaire di della iadarola il sindaco ancora probabilmente ancora sindaco aveva annunciato un incontro per le 13 non si è ancora visto qui c'è la stampa che è ancora in attesa di qualcosa pare che le sorti di questo incontro saranno annunciate in un comunicato stampa che dovrebbe arrivare in questi minuti naturalmente dal comune di foggia vi terremo aggiornati a presto